Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Iniziamo il 2018 con una serie di nuovi tutorial su come utilizzare l'iPad e in particolare l'iPad Pro per fare musica. Iniziamo con un semplicissimo tutorial sul come pulire l'iPad. Nonostante si continui a pensare all'uso di solventi o prodotti adatti alla pulizia dello schermo, le caratteristiche tecnico-costruttive di questo dispositivo richiedono invece l'uso di un semplicissimo panno in microfibra. L'Apple stessa suggerisce infatti di evitare qualsiasi tipo di liquido o solvente che potrebbe danneggiare la tecnologia utilizzata per la realizzazione di questi nuovi schermi multi-touch. Utenti di iPad, iscrivetevi al mio canale per iniziare questo nuovo percorso musicale.